Ciao, siamo ancora qua con Italian Country Family, sono Marilu. Oggi affrontiamo un nuovo passettino per la base delle line dance, che è il pivot. Il pivot è un passo che ci serve per girare di 360 gradi, ma non è un passo statico come lo step and turn che abbiamo già visto, ovvero il passo giro. Perché qua andremo in avanti o indietro, dipende da come eseguiremo il passo, quindi ci andremo a spostare. Allora, se dobbiamo eseguire un pivot in avanti, partendo col piede destro, porto avanti il piede destro, ci porto il peso, mi giro facendo perno sul piede destro e porto indietro il sinistro, ci porto il peso e finisco nuovamente girandomi, tornando sulla mia linea di ballo, portando avanti il piede destro. Quindi ho fatto un giro completo di 360 gradi. Lo rivediamo un attimino brevemente. Attenzione, vi do anche i tempi. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3. Lo guardiamo anche visto di spalle, ok? Mi posiziono un po' più indietro perché andrò ovviamente nella direzione opposta. Quindi parto col destro, apro, mi giro, riporto avanti il piede destro. Questo è un pivot. Possiamo anche eseguirlo partendo all'indietro, quindi in sostanza non cambia niente, porto indietro il destro e comincio già a girarmi, come vedete. Faccio perno e mi giro e torno avanti col destro. Questo è il pivot. Ci vediamo al prossimo passo. Ci vediamo al prossimo passo.